Siamo qui ad allenarci, quanti di voi cammineranno ogni giorno? Questo è un ottimo viale per camminare e per correre, ma oltre che camminare molto velocemente è necessario ogni volta fare qualcosa in più. E allora facciamo un esercizio semplice su questo marciapiede, scendiamo e risaliamo ogni 5 passi. Dai che è un esercizio semplice ma efficace. Poi quando ci saremo abbastanza allenati faremo questo esercizio ogni 3 passi. 1, 2, 3, sali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avanti così per diversi metri. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, sali. Quando sarete diventati veramente bravi e avrete camminato velocemente per altri po' di passi, incomincerete a correre e fare questo esercizio mentre si corre. su, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Io sono ancora poco allenata e quindi riesco a farne poche. facciamolo e poi rivediamoci qui per vedere i risultati.